Ciao ragazzi, oggi prendiamo un'offerta su Brossalza, un pacchetto, ok ragazzi, questa qua prenderemo, l'ultima, vado a prenderla, ok ragazzi, ecco qui, 30 gemme, 450 monete, prima megacassa e 5 skip, niente. Ragazzi, 10 gemme, vediamo la seconda, 5 skip, niente, nessun brawler, ok ragazzi, spacchettamento veloce, veloce, non abbiamo trovato niente, però possiamo creare un'ultima cassa enorme, ma niente ragazzi, credibile, sono sbalordito, niente. Ciao ragazzi.